Musica Buona domenica e benvenuta al consueto appuntamento con il riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 17 dicembre. I lavoratori della formazione professionale hanno manifestato davanti Palazzo d'Orlean per chiedere al Presidente della Regione, Rosario Crocetta, i pagamenti delle ultime tre mensilità e maggiori garanzie occupazionali. La formazione professionale è ancora in piazza perché il Governo vuole che sia in piazza evidentemente. Noi continuiamo a chiedere stipendi. Noi non siamo nelle situazioni della GESIP con due stipendi e protestiamo vehementemente. Però ci siamo arrivati a 12 mesi e siamo disperati. Stiamo per trascorrere un Natale senza soldi. 12 mesi è la media, poi c'è chi è a 22 mesi. Ci sono situazioni che giorno dopo giorno esplodono. Abbiamo i lavoratori di alcuni enti, il Cefop su tutti, dove vengono effettuate procedure di mobilità, licenziamenti collettivi, per cui quasi mille persone già hanno perso il posto di lavoro. Nell'accordo della buona formazione noi avevamo scritto anche che avremmo dovuto affrontare la riqualificazione del personale, per cui il passaggio al Fondo Sociale Europeo avrebbe dovuto prevedere una serie di strumenti che tutelassero anche i lavoratori. Se serve a fare pulizia, la CISL è sicuramente al fianco del Presidente della Regione a fare questo. Però a pagare non devono essere i lavoratori, c'è la fascia più debole. In questo momento i lavoratori devono essere pagati. I lavoratori devono percepire la loro attribuzione perché sicuramente non sono loro quelli che hanno colpa. Dopodiché se il sistema è da pulire, ma noi lo diciamo dal 2008, non lo scopriamo oggi, penso neanche che il Presidente della Regione lo scopra oggi. Probabilmente oggi siamo alla punta dell'iceberg del problema e insieme possiamo risolverlo. Prima gli stipendi ai lavoratori, prima le garanzie ai lavoratori, poi insieme possiamo sederci in un tavolo permanente, continuo, unico, lo possiamo battezzare come vogliamo noi e possiamo lavorarci per quanto tempo vuole il Presidente della Regione per riformare il sistema. Ripeto per l'ennesima volta, ma a pagare non devono essere i lavoratori. I pubblici ministeri, Ingroia e De Francisci, tentarono nel maggio scorso di far pentire Bernardo Provenzano. Il colloquio si tenne nel carcere di Parma dove il boss è recluso. Fare male non mi è mai piaciuto e non mi piace. Parola di Bernardo Provenzano, esortato a pentirsi da Antonio Ingroia e Ignazio De Francisci il 31 maggio scorso, nel loro ruolo di procuratori aggiunti, oggi trasferiti ad altri incarichi. Il colloquio si tenne in una saletta del supercarcere di Parma dove il boss corleonese si trova recluso. All'unica occasione di ristabilire in parte la verità sul suo nome, tentarono di convincerlo i magistrati. Un'ora di faccia a faccia, concluso con la trascrizione di frasi lasciate a metà o di difficile interpretazione. Per dire io la verità, dice il boss, avissa a parlare male di cristiani. Scusatemi. Il capo mafia, arrestato nel 2006 dopo 43 anni di latitanza, fu ascoltato come testimone nell'ambito di un procedimento, come riporta il Corriere della Sera, catalogato come relativo a notizie non costituenti in reato. Il legale del boss Rosalba Di Gregorio, che non era presente all'interrogatorio e che in diverse occasioni si è lamentata per il trattamento riservato al suo assistito, dopo aver ottenuto il verbal, ha depositato al giudice dell'udienza preliminare nel processo sulla trattativa su Stato e mafia, in cui Provenzano è imputato. Una settimana prima dell'interrogatorio con i magistrati, Provenzano aveva incontrato in carcere i parlamentari Beppe Lumia e Sonia Alfano. Martedì 18 dicembre, crollo di due palazzine a Palermo, trovata anche la quarta vittima, sette i feriti, tra cui tre bambini, ma non sono in pericolo. È stata trovata la quarta vittima del crollo di due palazzine, avvenuto la scorsa notte a Palermo, probabilmente per un cedimento strutturale. Si tratta di Elena Trapani, 74 anni. La donna viveva con il nipote, anche lui morto nel crollo. Nei due edifici vivevano otto famiglie. Da tempo, dopo la costruzione di una struttura prefabbricata all'ultimo piano di uno dei due immobili, si sentivano strani schicchioli e più di una crepa si era formata sui muri. Dopo la chiamata ai vigili del fuoco, che si sono accorti subito della gravità della situazione, è arrivato l'ordine di evacuazione, ma non tutti ce l'hanno fatta. Gli edifici si sono sbriciolati prima che tutti gli abitanti riuscissero ad uscire. In quattro sono rimasti sotto le macerie. Il cadavere di un uomo di 84 anni, Ignazio Accardi, schiacciato da una trave, poi è stato trovato il nipote, Antonino Cinati, 54 anni. In mattinata i vigili del fuoco hanno localizzato il corpo senza vita di una delle due donne disperse, l'ottantenne Maria Lamattina, moglie di Accardi. I quattro vivevano al terzo piano di uno dei due edifici. I feriti sono sette e un'intera famiglia si trova all'ospedale civico. Sul posto per tutta la notte c'è stato il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, che ha dislocato i venti senza tetto in una struttura messa a disposizione dai salesiani, già usata per ospitari senza fissa di mora. Sul crollo verrà aperta un'inchiesta per disastro colposo. I PM nomineranno un consulente esperto in costruzioni. Le macerie delle due palazzine, che si sono letteralmente sbriciolate, verranno portate in un magazzino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ascoltiamo il comandante dei vigili del fuoco, Gaetano Vallefuoco. Possiamo fare finalmente un bilancio quasi definitivo. Noi siamo intervenuti ieri sera dopo le 23.12. Il bilancio è che il nostro intervento comunque è servito a salvare almeno otto persone. Forse a questo dobbiamo aggiungere anche la nostra squadra, che proprio nel momento in cui metteva in salvo una persona con impedite capacità motorie è uscita dall'edificio che poi sono crollati. Da quel momento abbiamo iniziato le incessanti attività di ricerca per trovare le persone disperse e come sapete tutti a questo momento purtroppo abbiamo recuperato tre vittime e siamo in cerca di una quarta persona. Martedì mattina a Palazzo delle Aquile si sono tenute le celebrazioni per la giornata internazionale dei migranti. Dal 2000 si celebra ogni 18 dicembre la giornata internazionale per i migranti istituita dalle Nazioni Unite nell'anniversario della data dell'adozione della Convenzione per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. È venuta proprio il 18 dicembre 1990 da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Convenzione è entrata in vigore solamente nel 2003 quando il Guatemala ratifica il documento facendo raggiungere il numero minimo di ratifiche previsto conta solamente 46 ratifiche di paesi per lo più quelli originari dei flussi migratori. Questa giornata offre anche l'opportunità di riconoscere il contributo che milioni di immigrati danno ai paesi in cui arrivano, ai paesi di origine ma anche di promuovere il rispetto dei loro diritti umani fondamentali. Il semplice fatto che noi siamo qui all'interno di questo palazzo sia già un dato. Questo palazzo è stato chiuso lungo 10 anni ai cittadini immigrati in modo particolare ma anche ai cittadini palermitani lungo 10 anni. Oggi è stato riaperto e nasce una discussione fra i cittadini, inclusi gli immigrati, e l'amministrazione locale. Già questo di per sé è una conquista, è un cambiamento che è visibile ed è sentito e condiviso anche da parte delle comunità immigrate. Quindi io faccio i complementi anche all'amministrazione comunale e aspetto sempre che ci siano ulteriori atti concreti oltre i gesti condivisi. Il percorso è ancora lunghissimo, bisogna che si cambi totalmente mentalità. Oggi è la giornata dei rifugiati ma il problema non è soltanto in relazione alle norme, ma il problema è che l'immigrato vive continui confini ogni volta che deve affrontare una pratica in qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione. Mercoledì 19 dicembre via Bagolino a Palermo dopo il crollo e quattro morti. Adesso le indagini dovranno stabilire le cause di quanto accaduto. Attribuire comunque le responsabilità non sarà facile. Via Bagolino, una strada stretta di case popolari dove l'abusivismo e la regola è ridotta a un cumulo di pietre, polvere e disperazione. Che si sia trattato di un cedimento strutturale e non di un'esplosione da fuga di gas è stato chiaro fin da subito. Saranno i magistrati che hanno aperto un'inchiesta per disastro colposo e omicidio plurimo ancora a carico di ignoti ad accertarne le cause. E non sarà un'impresa facile. Gli inquirenti, i PM hanno delegato, i vigili urbani e la polizia dovranno districarsi tra abusi abnormi che hanno trasformato due palazzine di due piani in edifici di quattro. Con i terzi piani realizzati senza alcuna concessione e in attesa di essere sanati dal 1986 con tanto di perizia giurata agli atti del comune che ne attestava la potenziale regolarizzabilità. Sopra, come se non bastasse, sono stati costruiti dall'auto una veranda, dall'alto un appartamento in muratura che poggiava tutto sul piano di sotto e che probabilmente è stato causa del collasso. Il sindaco Leoluco Orlando ha lanciato un appello molto forte. Laddove ci accorgiamo che vi sono costruzioni abusive e spesso non visibili dall'esterno, per favore denunciamole. Non so se questo è il caso ma se dovesse essere questo, ha spiegato il primo cittadino, l'abbiamo tutti sulla coscienza, tutti coloro che avendolo visto non hanno fatto una denuncia alle autorità competenti. Per mancanza di liquidità nelle casse della regione il pagamento degli arretrati dei lavoratori degli enti di formazione slitterà a gennaio ed intanto la FLPCGL ha organizzato un sit-in davanti alla prefettura di Palermo per sensibilizzare le istituzioni sul rischio emergenza sociale per il settore. Non è bastato l'incontro di ieri tra i sindacati e il presidente della regione, Rosario Crocetta, per scongiurare il rischio emergenza sociale nel settore della formazione in Sicilia. Manca infatti la liquidità necessaria nelle casse della regione per il pagamento delle mensilità arretrate ai circa 10.000 dipendenti degli enti di formazione professionale che slitterà probabilmente a gennaio. Da un anno i lavoratori attendono il pagamento degli stipendi ed oggi la FLPCGL ha deciso di organizzare sit-in davanti a tutte le prefetture dell'isola per sensibilizzare le istituzioni sul dramma sociale che vivono i formatori. Per il neoassessore all'istruzione Nelly Scilabra, presente ieri all'incontro con i sindacati, occorre riformare l'intero settore per poter utilizzare i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, il cosiddetto Avviso 20, secondo criteri di trasparenza e professionalità. Ma il rischio, denunciano i sindacati, è la salvaguardia degli stessi posti di lavoro. Dopo la riforma portata dall'ex assessore regionale Mario Centorrino, con il passaggio dei fondi regionali e i fondi europei, che ha comportato una maggiore liquidità per la formazione e maggiori rischi di licenziamento secondo i parametri voluti dall'Europa. L'Aviso 20 prevede un finanziamento europeo di circa 267 milioni di euro all'anno per tre anni, ma l'utilizzo di questi fondi deve giustificare l'assunzione indiscriminata che in questi anni si è fatta negli enti di formazione professionale con i sospetti di politiche clientelari. Giovedì 20 dicembre, con l'insediamento delle commissioni legislative all'Assemblea regionale siciliana, gli equilibri politici si sono ritrovati, così come la maggioranza che sostiene il Presidente Crocetta. L'Assemblea regionale siciliana può iniziare sul serio le sue attività. Il tempo stringe, restano dieci giorni per evarare le proroghe per i precari, risolvere i problemi degli autorifiuti, approvare l'esercizio provvisorio che rinvia il bilancio al 2013. Tutto questo si potrà fare perché è stato trovato un accordo per l'insediamento delle commissioni legislative e la designazione dei rispettivi Presidenti. Non era una cosa facile. All'interno del Partito Democratico, la forza di maggioranza relativa a sostegno del Presidente Crocetta si era arrivati ai ferricorti, tanto per cambiare. Antonello Cracolici non aveva digerito la sua estromissione da qualunque ruolo di vertice dell'esecutivo e lo scontro con il segretario Giuseppe Lupo si era fatto davvero pesante. E così Cracolici, Lupo e il nuovo capogruppo Baldo Gucciardi sono stati convocati a Roma dalla Segreteria Nazionale per fare pace e trovare una sintesi. Cracolici è entrato nella commissione bilancio e un suo fedelissimo, Pippo Di Giacomo, è stato designato presidente della commissione sanità. Tutto bene, quindi per quanto riguarda le altre commissioni sono state affidate tutte a deputati del PD e dell'Unione di Centro con un paio di sorprese. Giampiero Trizzino del Movimento 5 Stelle presiderà la commissione lavoro, mentre a Marcello Greco del Movimento Territorio va la presidenza della commissione ambiente. A bocca asciutta il PDL, tranne Cascio, presidente della commissione Unione Europea, il PID e l'MPA. L'autonomista Vincenzo Figucci ha dichiarato stizzito che ormai il Movimento 5 Stelle è la stampella di Crocetta, mentre Pippo Gianni si limita a constatare sarcastico che anche i duri e puri grillini ora fanno parte della coalizione di Crocetta. E in effetti gli equilibri sembrano consolidarsi proprio così, una maggioranza allargata formata da PD, UDC, Lista Crocetta, Movimento 5 Stelle e Movimento Territorio, con grande soddisfazione di Rosario Crocetta. Illustrati i primi provvedimenti adottati dall'Aggiunta regionale sui precari, 25.000 potrebbero essere stabilizzati coinvolgendo enti locali e privati. Un disegno di legge, quello inserito ieri dall'Aggiunta regionale, che potrebbe dare una boccata d'ossigeno al precariato storico siciliano. Negli appalti pubblici sarà infatti inserito l'obbligo alle imprese di riservare il 20% dei posti al personale non stabilizzato, un bacino che il presidente della regione ha quantificato in circa 25.000 persone. La regione dunque prova di rottare verso i privati parte dei precari inserendo una norma che consente le proroghe dei contratti per sette mesi. Il costo dell'appalto, ha spiegato Crocetta, comprenderà il pagamento di questo personale, di cui quindi l'impresa sarà alleggerita. La regione dunque sceglie di far diventare produttivo il precariato e, anche se il lavoratore non ha l'obbligo di accettare il trasferimento, dall'assessorata all'economia fanno sapere che l'Aggiunta starebbe per approvare una delibera che potrebbe prevedere sanzioni per chi non volesse accettare, che rifiutare il trasferimento potrebbe essere infatti sospeso per poi essere espulso dal sistema pubblico al terzo rifiuto. Questa per Crocetta è infatti l'unica maniera per fare stabilizzare alle imprese il personale che potrebbe anche essere formato dalla stessa azienda. Per adesso l'invito a spostarsi verso i privati è indirizzato agli LSU degli enti locali, ai contrattisti della regione, agli ex PIP, agli AUSU e ai lavoratori dei consorsi di bonifica. Venerdì 21 dicembre si sono svolti a Palermo i funerali delle quattro vittime del crollo delle due palazzine di via Bagolino. Non solo quattro nomi, quelli celebrati questa mattina, ma quattro persone con altrettante storie che hanno coinvolto un intero quartiere. Quattro cittadini, infine, attorno ai quali si è stretta l'intera città. Ad ufficiare le celebrazioni, padre Giuseppe Turco, possiamo soltanto pregare, ha detto oggi, non soffermiamoci sulle accuse, sulle domande. Io stesso ho avuto difficoltà nel decidere cosa dire per consolare da un dolore così grande. La verità è che forse non esistono parole, se non quelle della preghiera. Ce le ha portati via una morte traumatica, ha detto padre Turco. È stata una tragedia che ha sconvolto l'intera città, dalle centinaia di persone che sono state vicine alle famiglie. Abbiamo sentito la fratellanza, l'unione degli uni con gli altri. Shakura, ma adesso pace. Antonino, Ignazio, Maria e Elena sono ora nella pace. Al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, invece, è toccata una delle letture. Preghiamo, ha detto, preghiamo per la nostra amata e condannata città. I momenti come questi, purtroppo, diventano facilmente la triste occasione per riflettere e per ricordare. Riflettere sul lutto, il dolore, la paura di una notte che ha ucciso, che vede gli sciacalli scavare tra le macerie, alla ricerca di qualcosa di valore che lascia delle domande aperte. Il sindaco di Altavilla, Milic, Anino Parisi, ha tracciato un bilancio dei primi suoi sei mesi di amministrazione e ha rivolto un augurio ai suoi concittadini. Ma per quanto riguarda il giudizio sulla attuale amministrazione su questo semestre, ritengo che lo debbano dare i cittadini e spero che siano contenti del nostro operato. Noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima per fare di tutto e di più. Siamo riusciti a fare tante cose. Abbiamo, in qualche maniera, ristabilito il decoro urbano, ormai che era andato perduto. Abbiamo dato una svolta a quello che era il servizio della raccolta dei rifiuti di soludi urbani. Abbiamo stabilizzato alcune tasse ed altre abbiamo addirittura diminuite rispetto ai provvedimenti fatti dal commissario straordinario. Abbiamo pensato per il personale precario, per la sua stabilizzazione. È stato approvato il piano particolarizzato del centro storico e in fase di approvazione il piano di utilizzo del manio marittimo. Dico, tutta una serie di iniziative che hanno in qualche maniera concesso la possibilità a molte persone di poter adoperarsi e lavorare per il Paese e nello stesso tempo risparmiare sulle spese. Quindi l'obiettivo era quello di contenere le spese, visto che le restrizioni, il patto di stabilità ci obbligano a contenerle, viceversa il Comune va in default e noi non possiamo permettere questo. Molti altri ci stanno andando, ma non per demerito dei loro amministratori, semplicemente perché la legge è veramente restrittiva e costringe ai sindaci a fare da riscossori delle tasse rispetto a quello che faceva prima lo Stato e la Regione. Ci tocca questo compito. Ce lo carichiamo anche questo addosso. È un momento difficile, però ritengo che l'amministrazione in questi sei mesi ha fatto molto di più di quello che doveva e spero di continuare su questo passo. Per il futuro uno cosa può dire? Può semplicemente promettere il massimo impegno. Non abbiamo grossi margini di movimento, però noi riusciamo ad avere dei funzionari, per fortuna che sono all'altezza del loro ruolo, a fare delle proposte che tendono sempre al miglioramento del nostro Paese. Quello che dovremmo cercare di fare maggiormente è quello dello sviluppo della zona esterna e soprattutto quello purtroppo di cercare di attivare qualche possibilità di lavoro per la gente che altamente la villa, come tutti i Paesi, d'altra parte sta soffrendo questa crisi economica e ci sono nuove povertà, nuove fragilità che emergono. E' effettivamente una cosa che mi amareggia tantissimo, soprattutto in questo periodo delle feste, è vedere la gente triste perché non può far fronte ai bisogni necessari di una famiglia. Il Consiglio Comunale è compatto, l'amministrazione è compatta. Ci sono addirittura dei consiglieri di minoranza che hanno lasciato il loro gruppo d'origine non per collaborare con l'amministrazione non è fare una posizione propositiva, considerato che dai banchi della minoranza finora sono volte semplicemente polemiche, illazioni, però di fatto nessuna proposta tranne quella di questi due consiglieri che si sono distaccati dalla minoranza, che hanno creato un gruppo autonomo e che stanno facendo delle buone proposte. Quindi io mi auguro che l'amministrazione tutta nella sua totalità, compreso quelle di minoranza che attualmente hanno avuto solo un atteggiamento critico non costruttivo, possano fare delle proposte. Da dovunque queste vengano, queste saranno accolte se sono nell'interesse della collettività. Io auguro ai miei cittadini un buon Natale e un felicissimo anno nuovo. Io auguro semplicemente che si esca da questa situazione che sicuramente è un delitto nei confronti della società, quello di questa crisi economica, che la cittadinanza possa ritornare a risplendere, i cittadini possano avere quel sorriso che adesso gli manca. Sabato 22 dicembre, la lotta contro il sistema radar satellitare del Muos si sta radicando sempre di più, ma ha bisogno di maggiore attenzione da parte dei media. Per questo motivo il comitato di base Non Muos di Palermo ha manifestato davanti la sede regionale della RAI. Il Muos sono queste tre parabolone che vogliono installare già in una base americana esistente che possiede già 41 antenne per le trasmissioni sottomarini, eccetera. A queste 41 antenne si aggiungeranno queste tre parabole, queste tre parabole che servono per orientare comunque in qualche modo gli aerei e tutta una serie di dispositivi militari per la guerra dei nuovi secoli, insomma sono le guerre digitali, dei droni, eccetera. E quindi noi poniamo il problema innanzitutto sulla salute, perché è più che dimostrato che già le 41 antenne superano le soglie minime di emissione di onde elettromagnetiche. Ricordiamo che il centro abitato non è a chissà quanti è a 50 km, il centro abitato è a pochi km, ci sono casi a 500 metri. Ci sono state già delle situazioni in cui gente con dei pacemaker gli sballano, quindi già in questa situazione. Mentre le tre parabolone saranno un fascio orientato, questo fascio orientato è di una potenza elevatissima. Ci sono dei presidi, in questo momento hanno già fermato uno dei camion che andava alla base, che portava probabilmente del materiale per montare il muos, perché hanno tutto, devono solamente montarlo. Questi presidi stanno vigilando da più di un mese. Ragazzi di tutti i tipi, anche inisce mesi, stanno iniziando a credere che veramente possono bloccare questa macchina di morte. Poniamo anche un problema di militarizzazione del territorio siciliano e poniamo forse quello che Piola Torre, tanti anni fa, disse, che la Sicilia sta diventando una portaerei del Mediterraneo. Ritengo che, anche una volta che il Consiglio Comunale ha preso una posizione all'unanimità su questo problema del muos, ritengo che il Presidente Crocetta abbia tutti i poteri per interloquire con le istituzioni competenti e anche con la Marina Militare Americana, perché è dimostrato che le emissioni di questi radar saranno devastanti per la salute, per l'occupazione e per l'ambiente e che quindi il Presidente della Regione ha tutte le competenze e i poteri per dire no all'installazione del muos a Niscemi. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, auguro ancora a tutti voi una buona domenica.